Benvenuti nella galassia Rattix. Sei pronto a vivere la tua prossima... M'avventura! Questa Jeep Renegade è l'auto che stavi aspettando. Questo SUV compatto, usato ma in condizioni impeccabili, è progettato per affrontare ogni sfida, sia in città che fuoristrada. Immatricolata a dicembre 2022, Jeep Renegade vanta un motore benzina da 120 cavalli capace di regalarti un'esperienza di guida dinamica e divertente. Il suo vivace colore rosso non passa inosservato. Grazie al cambio manuale e alla trazione anteriore, avrai sempre il controllo in ogni situazione. Con soli 17.832 km certificati, questa Jeep Renegade è pronta a vivere con te nuove avventure. Non perdere l'opportunità di scoprire questa straordinaria Jeep Renegade. Visita Rattix.it per maggiori informazioni.